buongiorno a tutti amici oggi giornata ventosa e oggi realizzeremo una piccola zanzariera soltanto con un con un listello recuperato da un pallet andiamo a vedere come lo realizziamo come lo tagliamo e come lo mettiamo in una finestra piccola andiamo con l'aiuto del nostro piccolo banco lo sega impostiamo la distanza corretta questo è un listello che è un metro e 90 di lunghezza con una larghezza di sette e mezzo realizzeremo due listelli da 35 insomma 35 37 e qualcosa perché la nostra finestra è 112 di altezza e 64 di larghezza e Grazie a tutti. Bene, eseguiti i tagli dei listelli, verifichiamo che le misure coincidano e passiamo prima dell'assemblaggio con colla e biti ad una levigatura dei listelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.